Noi siamo un'associazione di mediatori interculturali attivi dal 2005 sul territorio piemontese. La figura del mediatore è quella figura che interviene nelle istituzioni oppure ovunque c'è presenza di cittadini migranti in aiuto della comunicazione tra questi e gli operatori italiani o impiegati dei vari sportelli o comunque persone che sono in prima linea nella gestione delle questioni legate all'immigrazione. Il mediatore quindi è una figura bidirezionale che è sia d'aiuto al cittadino migrante ma è soprattutto d'aiuto alle istituzioni. Pensiamo ad esempio solo agli ospedali, ai pronto soccorsi dove grazie alla presenza dei mediatori vengono resi più efficaci gli interventi medici, i giorni di degenza sono minori per cui anche minori costi sostenuti da questo sistema sanitario che sicuramente ne valorizza la presenza. La figura del mediatore è presente in tutti gli ambiti dove l'immigrato viene in contatto quindi da quello previdenziale, scolastico, sanità appunto, carceri e altri ambienti dove la presenza dei cittadini migranti diventa sempre più importante dal punto di vista numerico ma anche delle varie questioni da sostenere.